Brutta disavventura per Tommaso Zorzi. Mentre si trovava in vacanza in quel di Taormina, nella sua casa di Milano sono entrati i ladri che gli hanno rubato alcuni costosi accessori. Brutte notizie per Tommaso Zorzi. Il conduttore di Drag Race Italia ha trovato una spiacevole sorpresa al suo ritorno da una vacanza a Taormina. Sembra infatti che sia stato derubato. Pare che dei ladri siano entrati in casa sua a Milano e abbiano rubato alcune borse della collezione di Hermes e Birkin. Una vicenda alla Bling Ring di cui ancora non si conoscono i dettagli. Dopo la fuga di notizie, Zorzi è intervenuto in prima persona parlando dell'accaduto. Ciao a tutti, considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo.